qual è il filo conduttore che da sempre unisce prodotti urmet e nella nostra storia in uno dei cardini della nostra expertise i citofoni che negli anni sono diventati videocitofoni via via sempre più evoluti l'obiettivo in ogni passo di questa crescita è sempre stato lo stesso facilitare chi utilizza il prodotto il punto di arrivo oggi è vog un videocitofono che apre la porta certo ma che può farlo in modo ancora più immediato che non premendo un tasto risponde ai comandi vocali o gestuali voghi infatti l'acronimo di voice or gesto dal design all'interfaccia alla connettività oggi vi presentiamo le principali caratteristiche che rendono la gamma VOG completa innovativa e per noi anche emozionante ehi urmet apri al design una delle sfide più difficili è stata quella di realizzare ancora una volta dei prodotti unici per riuscirci abbiamo lavorato molto sui materiali le finiture e i colori materiali naturali come il vetro e le lavorazioni che lo rendono funzionale e sicuro finiture geometrie pensate per rendere il prodotto gradevole anche al tatto colori sobri ed eleganti che si integrano in ogni contesto di arredamento su tutta la linea abbiamo evitato giunture realizzando la parte anteriore con una superficie continua senza interruzioni abbiamo lasciato a vista solo il necessario la grafica si attiva solo quando serve consentendo a VOG di restare sempre un oggetto d'arredo quale potrebbe essere la prossima sfida beh mi piacerebbe che ognuno di noi potesse scegliere il suo stile di videocitofono ehi urmet apri all'esperienza utente tutti i nostri prodotti devono rispondere al seguente paradigma essere utili utilizzabili e usati la nuova famiglia VOG centra in pieno questo obiettivo i team di design e sviluppo hanno lavorato assieme per definire interfaccia utenti semplici che rendano intuitivo l'uso del prodotto la nuova ua urmet adotta uno stile moderno semplice accattivante l'interfaccia realizzata nel segno della continuità estetica del prodotto rilevabile nelle linee nette e squadrate e negli angoli retti dei tasselli che contengono e mettono in evidenza le icone di gestione selezionate dagli utenti l'iconografia su blocchi ben distinti permette all'end user di riconoscere un trend unico sia quando il videocitofono acceso sia quando questo è spento il family feeling su tutta la gamma VOG rappresenta un segno distintivo e riconoscibile del brand urmet ehi urmet apri all'innovazione se il design seduce la tecnologia conquista con VOG il nostro focus è stato cambiare il modo di interagire col videocitofono trasformandolo in un vero e proprio maggiordomo di casa grazie ai comandi voice e gesture che rendono possibile un uso totalmente touchless la gamma VOG è composta da tre dispositivi per tre segmenti distinti di domanda un 5 pollici entry level ma non troppo accanto alle funzioni classiche troviamo il mute temporizzato e i controlli gestuali un 5 pollici connesso ma non solo ha la deviazione di chiamata i comandi vocali personalizzabili è compatibile con alexa e con i dispositivi eco show ha il mute e la riporta automatico programmabili settimanalmente i controlli gestuali e la gestione della smart home urmet yokis e infine un 7 pollici touch screen con tutto il mondo urmet al top di gamma tutte le app urmet a bordo i comandi per l'attivazione di scenari di smart home comandi vocali gestuali personalizzazione delle suonerie e dello sfondo e molto altro VOG trasferisce le chiamate su smartphone sia quelle videocitofoniche che quelle di emergenza in caso qualcuno abbia bisogno di assistenza o aiuto ei urmet apri al controllo totale con VOG in particolare VOG 7 il videocitofono compie un grande passo avanti non è più uno tra i tanti strumenti domestici ma un vero e proprio monitor di controllo di sistemi e servizi per la casa da VOG si possono attivare tra gli altri i sistemi di smart home tv cc antintrusione anche il design abbiamo visto è funzionale a rendere piacevole e semplice l'utilizzo senza rinunciare al pregio estetico nessun dettaglio è stato trascurato dalla qualità di un suono nitido e chiaro fino alla possibilità di personalizzazione che rendono VOG lo stato dell'arte nella videocitofonia evoluta insomma con VOG davvero urmet apra al futuro e questo futuro potete scoprirlo toccarlo e provarlo oggi